Abbiamo capito che i primi due set stavano giocando peggio, tutti i numeri erano meglio loro. Poi alla fine, con un po' d'attenzione in certi momenti, con qualche errorino in meno, eravamo riusciti a essere 2-0. Anche il quarto set che stavamo vincendo, non stavamo giocando tanto meglio di loro. Anzi, in certe situazioni, se guardiamo anche il tabellino finale, fino al quarto set, anche i primi due set avevano murato di più loro, ricevuto meglio, attaccato meglio. Solo per fortuna avevano sbagliato qualcosina in più. Peccato, abbiamo perso il quarto set, penso che sia solo colpa nostra. Abbiamo perso veramente l'occasione di fare 3 punti contro una squadra molto forte. Un po' di disattenzioni, penso, nostra. Lì abbiamo fatto noi abbastanza male. Adesso il campionato, restiamo lì, siamo tutti lì. Sarà così fino alla fine, abbiamo perso l'occasione, penso di staccarsi un pochino. Ci sarà da soffrire fino alla fine, penso che sia giusto così evidentemente. Massimo, dicevamo nella partita contro Bolzano che da un certo punto in poi la differenza l'ha fatta con i fondamentali che ci devono appartenere, che sono saliti in tomo. Di tomo faccio l'esempio della difesa che nel terzo set. Sì, ma qua abbiamo difesa, il problema è che abbiamo fatto molta fatica in attacco. Abbiamo fatto molta fatica in attacco, a muro abbiamo fatto fatica a prendere il tempo sulla loro palla alta. Penso che rispetto a Bolzano la differenza sia stata quella, al di là del valore delle due squadre avversarie. e penso che la differenza è stata quella, con Bolzano abbiamo murato e qua alla fine non abbiamo murato, abbiamo murato poco, bravi loro, bravi loro attaccanti a cambiare i colpi, però quando difendevamo loro facevamo fatica a mettere la palla per terra, alla fine sono stati più bravi loro a giocare sul nostro muro e penso che sia una vittoria strameritata, assolutamente. Grazie.